Una campagna molto bella, partecipata, in cui stiamo girando tutti i territori, tutti i comuni. Oggi siamo a Santa Maria Capoavetere, ieri è stata una giornata nell'Agroa Versano. Insomma, è una battaglia che noi stiamo conducendo, provando ad essere presenti dovunque, chiaramente spiegando alle persone le ragioni di un voto importante diretto al centro-destra. L'appello è dare priorità al nostro territorio. Il salernocentrismo ha condizionato gli ultimi 5 anni di governo regionale e noi vogliamo restituire alla provincia di Caserta e ai nostri territori la centralità che merita. Per dare voce e forza ai candidati della Lega in questa sfida, che è una sfida che abbiamo raccolto con entusiasmo. La Lega porta il suo coraggio, le sue idee, senza paura, senza paura di nessuno. Come ci ha insegnato Matteo Salvini, che ovviamente va a processo per avere semplicemente fatto quello che gli italiani gli hanno chiesto di fare. Quindi un modo di fare politica che ci differenzia rispetto a tutti gli altri. E vogliamo replicare anche qui in campagna, anche qui a Caserta, anche qui a Santa Maria Capoveter con la nostra gente che ha accettato di metterci la faccia.